Celebrare la manualità e la capacità del saper fare degli artigiani pugliesi capaci con le loro mani di creare autentiche opere d'arte rendendosi inconfondibili in tutto il mondo. E questo l'obiettivo del premio internazionale di arte e impresa Manibus arrivato alla sua terza edizione e che grazie al sostegno della regione Puglia e di Puglia Promozione è stato in grado in questi anni di portare tantissimi artigiani provenienti da tutto il mondo nel territorio pugliese. Il premio che nella sua prima edizione si svolse a Monopoli verrà consegnato ai migliori artigiani il 19 ottobre nel teatro Paesiello di Lecce. Siamo giunti alla terza edizione del premio internazionale Manibus, un evento molto importante tra l'altro catalogato tra i grandi eventi di regione Puglia. Quest'anno nuovamente a Lecce e a Copertino con degli asset soliti insomma che però di fatto rappresentano tante novità. Un evento quello del Manibus che pone l'attenzione su due concetti fondamentali innovazione e tradizione perché gli artigiani si evolvono e si fondono con la tecnologia che avanza senza però dimenticarsi mai quelle che sono le loro origini. Soprattutto una valorizzazione dell'artigianato e quindi una spinta anche ai nostri artigiani a costruire quella trasformazione di artigiano design, provare a cogliere nuovi mercati, lo stiamo facendo a livello nazionale e internazionale, lo abbiamo fatto durante la realtà e levante, lo faremo nei prossimi mesi a Miami. Ci sono tantissime nostre imprese che stanno costruendo questa trasformazione e stanno avendo vetrine e attenzioni internazionali. Affiancare agli artigiani designer è la sfida del futuro trattando sempre la materia prima come una capacità importante di riconoscenza e trasformazione ed identità culturale.